Buongiorno e ben ritrovati con i servizi educativi del Museo Pol di Pezzoli. Io sono Chiara e oggi con i bambini delle elementari vogliamo provare a capire meglio che cosa significa collezionare. Perché il padrone di casa del Museo Pol di Pezzoli, che prima era una casa, Gian Giacomo Pol di Pezzoli era un grandioso collezionista. Allora, che cosa fa il collezionista? Io sono certa che i bambini sappiano molto meglio dei grandi che cosa significa collezionare, cioè raccogliere tanti oggetti che ci piacciono, che ci colpiscono, che ci raccontano una storia che ci interessa e li teniamo con noi. Per esempio, in questo piccolo scrigno tengo dentro alcuni tesori che ho trovato in giro per il mondo e mi piace tenerli con me, come per esempio questo minuscolo sasso che ho trovato su una spiaggia in Liguria. Ma io sono certa che i bambini a casa loro abbiano ognuno una grande collezione, come magari bastoni, sassi, oppure Lego, o macchinine, o bambole, oppure figurine o Rollins. Sicuramente ognuno ha la sua collezione. Allora, cosa ci insegna Gian Giacomo Pol di Pezzoli? Che l'importante non è ciò che si guarda, ma ciò che si vede, perché i veri collezionisti, dentro alle cose di tutti i giorni, sanno vedere qualcosa in più, sanno vedere qualcosa che li cattura, li colpisce, sanno cogliere il bello. Il collezionista non solo mette insieme tutti questi oggetti, ma li sa anche e li desidera disporre in un modo bello e interessante. Cioè, la mia collezione di macchinine sicuramente non può essere buttata a casaccio, ma forse la collezione a cui tengo è ben disposta su una mensola, come magari i personaggi di un film o i supereroi che mi piacciono tanto. Gian Giacomo Pol di Pezzoli ha fatto la stessa cosa e la primissima collezione di Gian Giacomo Pol di Pezzoli è stata quella delle armi e delle armature. Lui ha addirittura allestito una stanza nella sua casa nel 1800, dove ha deciso di ospitare le armature. Questo perché? Perché dopo aver messo insieme così tante armi antiche del 1500, poi ha iniziato ad essere appassionato di tappeti, poi di vetri, di porcellane, di specchi, di sculture, di pittura, di orologi. La collezione di Gian Giacomo Pol di Pezzoli è diventata un museo super vario, pieno di cose magnifiche, sorprendenti, che lo colpivano per la loro bellezza. Per ognuna di queste tipologie di oggetti Gian Giacomo Pol di Pezzoli ha deciso di costruire come una stanza dedicata, come se entrando in ogni stanza si entrasse in un piccolo mondo, per cui abbiamo la stanza nera, abbiamo il salone dorato, dove sono raccolti i grandi capolavori di opere d'arte che Gian Giacomo Pol di Pezzoli ha collezionato. Allora, noi vi proponiamo un lavoro oggi, che è quello di provare ad immaginare di aggiungere una stanza alla vostra casa e di renderla alla vostra stanza del collezionista. Vedete? Se ci mandate una mail, noi vi mandiamo questo kit, dove trovate una stanza tutta bianca, pavimento bianco, pareti bianche. E cosa serve in una stanza? Prima di tutto serve un pavimento. Ma come sarà il pavimento della vostra stanza? Sarà un pavimento ricco e decorato? Oppure sarà un pavimento semplice? Ci saranno delle colonne? Ci saranno dei dipinti? Oppure, dopo aver pensato alle cose, diciamo, strutturali, sarà necessario pensare anche agli oggetti, agli arredi? E come ha fatto Gian Giacomo Pol di Pezzoli, che viveva nel 1800, ma lui ha fatto anche stanze che richiamavano lo stile del 1700, del Medioevo. Quindi ha ripreso degli stili antichi e li ha messi insieme, stili antichi e stile moderno. Per questo noi vi abbiamo messo una finestra moderna, una specchiera antica, una cassettiera, magari simile a quelle che noi possiamo avere in casa, con una sedia con i braccioli, come si usava nei tempi passati, quando ci si sedeva dopo cena a leggere un bel libro. Ora, se completerete le vostre stanze, magari mandatecele così saremo felici di vedere i vostri lavori. Grazie per essere stati con noi e alla prossima settimana.